Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Pringiluca Ragazzi, primo video del 2019, auguri a tutti, spero che sia un buon anno per tutti voi e vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale in modo da far partire quest'anno veramente a bomba Ragazzi, come avrete potuto notare, sicuramente durante le pause invernali, ovvero durante le feste natalizie ho aggiornato la grafica di tutti i miei canali, di tutto quello che posseggo e quindi andatelo a vedere a palla, trovate tutti i link qui sotto in descrizione ma direi di partire quest'anno veramente alla grande, ovvero con un unboxing Unboxing di un prodotto che andrà a migliorare notevolmente la qualità dei miei video e parliamo proprio di lui Taradadam DJI Roniness, che ragazzi è una figata pazzesca in questa bellissima valigetta di polistirolo morbido che è anche un po' rigida in realtà, ma che ragazzi contiene il prodotto che andrà a migliorare notevolmente la qualità dei miei video Volevo acquistare una bella testa fluida della Mapprotto in modo da rendere delle riprese più stabili ma ho detto, beh, spendiamo qualcosina di più, cosa che sono riuscito a risparmiare anche con la scheda video che vi lascio il link dove vi spiego il perché qui in alto nelle schede e ragazzi, sono riuscito a prenderlo Roniness, andiamo a vedere subito dopo la sigla, l'unboxing MÊNESS, andiamo a vedere subito dopo la sigla, l'unboxing MÊNESS, andiamo a vedere subito dopo la sigla, l'unboxing MÊNESS, andiamo a vedere subito dopo la sigla MÊNESS, andiamo a vedere subito dopo la sigla MÊNESS MÊNESS, andiamo a vedere subito dopo la sigla 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 MÊNESS, andiamo a vedere subito MÊNESS MÊNESS, andiamo a vedere subito dopo la sigla MÊNESS, andiamo a vedere subito dopo la sigla MÊNESS, andiamo a vedere subito